Piano, piano! Questo è il polvere da sparo, non un miglio! Ce l'ho! Piano, piano! 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 Che accidenti succede? Un sabotaggio! Mettetemi in salvo! Fatti da parte! Cittadini! Soldati! Calmatevi tutti! Non cedete alla paura! Siamo noi i veri pastori di Costantinopoli! Siamo i signori di questa terra! Noi siamo bizantini! Moraggio! Siate forti! Non lasciate che qualcuno fia... Oh, diavolo! Quell'uomo! Affattetelo! Eccolo! Dannazione! Non lo vedo! Forza, lei! Più veloce, ragazze! Non lo vedo! Non lo vedo! Da qui non passerà! Non lo vedo! Non lo vedo! Quest'oggi! Al disordine! Che hai seminato qui! Forza, compite! Più veloce! Ci sta seminato! Prendeteli! Tu, tu ti approfitti di un popolo povero e perseguitato, Usandoci per favorire la tua vana missione! Ma noi ci battiamo per la dignità, assassino! Per ridare la pace a questa terra martoriata! I Templari sono sempre svelti a parlare di pace, ma assai lenti a cedere il potere! Perché il potere genera la pace, idiota? Non può accadere il contrario! Questa gente affogherebbe senza una mano salda che la regga! Che la tenga in riga! Eccolo qui! Il mostro che sono venuto a uccidere! Avrei dovuto essere il successore di Costantino! Avevo così tanti progetti! Tuo sogno muore con te, Emanuele! Il tuo impero è perduto! Ma non sono l'unico ad avere quella visione assassino! Il sogno del nostro ordine universale! Ottomani, bizantini! Non sono che etichette, costumi e apparenze! Dietro a questi ornamenti! Tutti i Templari fanno parte della stessa famiglia! Bando alle ciance! Sono qui per la chiave di Masiaf! Prendila, dunque! Prendila! E cerca la tua fortuna! Vedi se riesci ad arrivare a cento leghe da quella biblioteca prima che uno di noi ti finisca! Povero Emanuele, l'ultimo dei paleologi! Non avrei dovuto metterlo a capo della spedizione di Masiaf! Era un uomo arrogante e impossibile da contenere! Mi deludi, Ahmed! Perché i Templari? Perché sono stanco di tutte queste inutili faide! E contrappongono padre a figlio! Fratello a fratello! Per ottenere la vera pace! L'umanità deve pensare e agire come un solo uomo! Con un'unica mente! I segreti nel Grande Tempio ci daranno proprio questo! E Altair ci condurrà lì! Ti inganni! I segreti di Altair non sono per voi! Non mi interessa discutere, Ezio! Sono qui per le chiavi di Masiaf! Chiavi? Ce ne sono altre oltre a questa? Così ho saputo! Forse dovrei chiederlo a qualcuno che ne sa di più! Sofia Sartor! È questo il suo nome? Lei non sa nulla! Lasciala stare! Staremo a vedere! Ti ucciderò se la tocchi! So che ci proverai! Da dove pensi che venga? Via! Ora! Via! Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Non perdetelo, fratelli! Non lo vedo più! Liz, non perdetelo di nuovo! Ah, ah! Ah, ah! 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 Grazie a tutti.